ragazze buongiorno buon primo maggio a tutti buona festa dei lavoratori allora ragazze tempo di m ma d'altronde lo sapete che un po in tutta italia il tempo è così brutto però mio marito ha deciso che vuole uscire lo stesso e io sono d'accordo perché dico che importanza insomma che ci sia il sole fortissimo che ci sia qualche nuvola ma che importanza quindi stiamo uscendo lo stesso è molto probabile che a pranzo mangiamo fuori naturalmente ragazze io veramente ho capito che tutte tutte voi amate in maniera veramente incredibile la città di palermo quindi vi porto sicuramente con me allora è probabile che stamattina andiamo al mercato del capo sapete ragazze il mercato del capo è un mercato che io frequentavo con la mia mamma quando ero piccola così come il mercato della cuciria andavamo la fare la spesa quando ero proprio molto piccola andavamo alla cuciria poi invece in base appunto a delle esigenze di lavoro abbiamo cambiato zona di abitazione e poi appunto avevamo il capo come mercato vicino per andare a fare la spesa e parliamo degli anni 70 80 ormai tutti i mercati sono diventati meta di turisti e di conseguenza tutti i mercati ormai sono organizzati con ristoranti pub posti in cui si mangiano i frutti di mare in cui c'è la griglia sempre pronta e vi fanno quello che volete voi e quindi oggi forse andremo appunto al capo a mangiare allora ragazze vi dico io oggi ho voglia di un trucco non trucco nel senso che voglio mettere tutti i colori e molto tenue mi sono preparata un rossetto nude e mi sono preparata questo ombrettino di kiko dove c'è questo rosa chiarissimo è un po glitterato e questo lilla altrettanto chiaro proprio mi va di fare un trucco trucco non trucco con dei colori molto nude quindi vado a mettere il chiaro il colore chiaro in tutta la palpebra e poi mettiamo un po di questo viola diciamo per fare un po di ombreggiatura la camicia che ho indosso è un blu elettrico e questo è una specie di viola ma vi ripeto deve essere proprio anche se non si vede non mi interessa perché voglio un trucco proprio molto sobrio molto tenue non so perché ragazze molto spesso ho voglia di trucchi con il rossetto rosso molto evidenti invece alcune volte proprio voglia di trucchi proprio molto molto soft allora vado a mettere la matita nera all'interno sono così le giornate oggi proprio trucco non trucco ragazze voi che fate fatevelo sapere poi è perché io sicuramente vi porterò con me perché veramente impazzite quando vi faccio vedere il centro storico della mia città oppure anche le zone dei centri commerciali dove ci sono i negozi vi piace molto ho capito veramente che palermo è molto 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 amata sì quindi fatemi sapere anche voi dove andrete allora ho messo il fondotinta quello di guai con questo qua che è un fondo compatto molto cipriato ho messo questo ombretto che è chiarissimo vedete si vede non si vede ora vado a truccare le labbra con un rossetto di make up revolution molto molto nude però sotto metto questa matita per dare un po di colore a a a a a a a siccome io ci vedo poco a guidarmi forse ormai è l'abitudine come dire allora ragazze messo la matita ricordatevi che per ora il trend è questo anzi il mood fare il contorno e poi riempire i lati e lasciare un pochino più sguarnito di matita il centro come vedete questo è un rossetto nude che verte anche un po sul rosa e io proprio c'ho voglia di queste cose vedo non vedo vedo non vedo allora poi metto questo blush di wicon che ho trovato qualche tempo fa nella mia collezione di trucchi e che per ora sto utilizzando perché mi piace come vedete anche questo un bel mattone molto così sobrio molto discreto voglio passare scusatemi vediamo se riesco ad agio ad agio perché qualche cosa poi alla fine mi manca sempre scusatemi io mi preparo le cose però come sempre poi qualche cosina mi manca allora voglio mettere un pochino di cipria perché voglio andare a uniformare è un po appunto questa terra ok allora ragazzi io devo mettere l'eyeliner lo sapete da un po di tempo lo metto senza che ve lo faccio vedere perché ho bisogno tutte e due le mani oggi vado a mettere questi illuminante guardate che bello è di kiko da un lato è un po più scuro tipo contouring dall'altro lato è illuminante e lo vado a mettere sono quei trucchi che tu usi che poi metti da parte e che poi ti viene voglia di riutilizzare non è male questo illuminante sono tutti belli ma proprio così un pochino ragazzi ok allora metto il metto l'eyeliner e ci rivediamo immediatamente ok ragazze prontissima non metto neanche mascara oggi proprio completamente quasi nature ragazzi ho visto che questo rossetto è proprio bello bello è guardate che bello proprio è come se facesse le labbra più rimpolpate forse perché è nude proprio il colore delle labbra e le labbra sembrano rimpolpate ok ragazzi allora venite con me ok ragazzi